eccoci arrivati al video che tutti aspettavamo da tempo amici finalmente il t5 centenario numero 1 di 100 ha un nuovo proprietario questa leggendaria macchina quindi cambia casa e questa volta inizia a lavorare per davvero per l'occasione è stato montato questo splendido caricatore energy della ditta angeloni che era l'unico accessorio che gli mancava visto che per il resto è un vero trattore full optional per qualunque informazione su questo trattore vi invito a guardare i precedenti video perché adesso ci divertiamo a vederlo lavorare quindi andiamo in aratura con il new holland t5 120 edizione centenario oh jammi ciao senti ti va di venire con me a guardare il t5 centenario che lavora no fili dopo devo andare in banca che dobbiamo parlare di investimenti ma perché tu vai ancora in banca per fare gli investimenti perché feri dove dovrei andare è sufficiente il tuo telefono e la piattaforma io odler io mi sono iscritto da parecchio tempo e già sto guadagnando in modo semplice e sicuro con le cripto valute le cripto valute ai in gi capisco niente di queste cose stai tranquillo con gli odler tutti possono guadagnare e investire in modo semplice addirittura divertendoti come in un videogioco con la nuova funzionalità cloud miner come in un videogioco e come funziona fammi vedere guarda qua con questo servizio è possibile estrarre le cripto come in una miniera il funzionamento è molto semplice ci troviamo davanti a un disegno a forma di alveare con dei piccoli lampi disegnati chiamate scintille quando clicco su una cella una due consumo scintille e inizia l'estrazione dei dollari in bitcoin quando questo timer arriverà a zero automaticamente guadagni dei soldi vedi compariranno qui è facile no se vuoi avere più celle per poter scavare non devi fare altro che aumentare di livello e ci metterai sempre meno tempo a ricevere bitcoin e avrai più celle a disposizione cioè o fi sembra anche divertente oltre che semplice infatti è proprio così puoi fidarti di uodler hanno assistenza 24 ore su 24 7 giorni su 7 oltre una ricchissima sezione di aiuti sul loro sito o fi dammi una mano come faccio a scaricare uodler semplicissimo giami per te e per gli amici a casa scansionate questo codice qr o seguite il link in descrizione per scaricare uodler verificare il vostro profilo e iniziare a guadagnare e divertirvi voglio anche regalare un mio codice promozionale personale de spark con cui potete avere gratis 50 scintille 24 e dopo la verifica del vostro profilo lo trovate nel link in descrizione benissimo lo faccio subito grazie per lì non ringraziare me ringrazia gli uodler grazie per lì non ringraziare me ringrazia gli uodler grazie per la visione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.